L'intervento chirurgico è un evento importante per i pazienti e i loro familiari, che spesso si accompagna a numerosi dubbi e timori. Per questo, Cittadinanza Attiva ha realizzato la guida Operazioni Sicurezza. Cosa fare e cosa sapere in caso di intervento chirurgico? Obiettivo, rilanciare il tema della sicurezza in chirurgia, fornendo consigli pratici e informazioni su diritti, normative, procedure e aspetti della sicurezza nell'ambito degli interventi chirurgici. Devo dire che noi, come i PASVI, appena abbiamo ricevuto l'invito a partecipare alla stesura di questa guida, abbiamo trovato che è la cosa eccellente. Siamo convinti, perché fa parte anche del DNA dell'infermeristica, quello di coinvolgere la persona, il cittadino, l'utente, evidentemente a partecipare attivamente ed essere consapevole e, come dire, anche preparato per il tipo di informazioni che deve ricevere. In questo caso parliamo di Operazioni Sicurezza e siamo convinti che quanto più noi avremo una persona, un cittadino, consapevole dell'approccio che deve avere, cioè questo per sua sicurezza, in qualsiasi attività, diciamo così, nell'ambito del sistema sanitario nazionale, più evidentemente un po' agevola l'attività dei sanitari e contemporaneamente sa controllare quello che gli sta succedendo. Noi siamo un'azienda che da sempre, da 40 anni e passa che siamo presenti in Italia, abbiamo messo il paziente al centro dei nostri interessi, sia fornendo loro dei servizi particolari che dando prodotti sicuri ed efficaci. La partnership con Cittadinanza Attiva direi che era obbligatoria, perché Cittadinanza Attiva è l'organizzazione che più sta attenta al paziente e quindi per noi è stato assolutamente facile, naturale ed efficace lavorare insieme. Vogliamo passare un messaggio di sicurezza ai malati, di sicurezza ai medici e a tutti gli operatori sanitari. Operazione Sicurezza è una campagna che vuole proprio rafforzare la collaborazione e la fiducia tra professionisti sanitari e pazienti. Il tutto nasce dall'analisi attenta delle segnalazioni, oltre 27.000 ogni anno che arrivano alle sezioni locali del Tribunale per i diritti del malato, circa 300 diffuse tutte sul territorio, che mettevano in evidenza che fosse necessario lavorare proprio su questo. Da una parte perché dietro alle segnalazioni di sospetto e errore molto spesso si vedeva che manca un rapporto di fiducia, dall'altra perché in effetti il nostro sistema attualmente non è così trasparente da consentire alle persone di scegliere veramente dove curarsi. E quindi per questo un'organizzazione che si chiama Cittadinanza Attiva non può che dare degli strumenti utili al cittadino per attivarsi e per reperire le informazioni di cui ha bisogno, prepararsi a un intervento ed essere lui per primo, in prima persona, uno strumento utile che è un diritto fondamentale e nessuno di noi vorrebbe avere problemi quando si cura. Cittadinanza Attiva, Tribunale per i diritti del malato, nella sua modalità di agire e in particolare nella realizzazione di progetti, programmi e campagne, generalmente costituisce un board scientifico, un tavolo di esperti, composto dalle principali società scientifiche competenti per materia, ma anche da istituzioni e professionisti in generale. Nel caso specifico, per esempio, a livello di istituzione c'è la collaborazione del Ministero della Salute che ha potuto sovraintendere anche all'attendibilità dei contenuti della guida e società scientifiche come i chirurghi, come la COI, il CIC e così via. Altra importante competenza che abbiamo coinvolto all'interno del tavolo è certamente quella degli infermieri che sono sempre più, dal nostro punto di vista, attori del sistema. Le loro competenze aumentano sempre più, fortunatamente, anche perché è aumentato anche molto il bagaglio di competenze che l'infermiere ha e oggi in una riorganizzazione del sistema più generale la figura dell'infermiere è centrale ed è molto vicina alle esigenze anche del cittadino. Quindi anche loro hanno partecipato attivamente alla stesura di questa guida. Grazie a tutti.